Ce l'avete chiesto in tantissimi quindi finalmente lo facciamo Morità, parco giochi, Steph vs Fere Chi costruisce la casa migliore Quindi la casa di Steph vs la casa di Fere Sei pronta? Sì Sette minuti ti bastano? Sì Non sei mai convinta cara? Dieci No, sette Allora io voglio questo spiazzo, va a te Quale? Qua, proprio di fronte alla stradina la mia casa inizierà qui Ok Ok Sai cosa faccio? Io la faccio in collina Io non so bene Qua Come la voglio Carina Cioè la farei di legno, la farei di mattoni, è già deciso? Non l'ho molto deciso no Sono particolarmente indeciso, devo essere sincero Però qualche idea diciamo che un po' ce l'ho Ok? Ok Allora si parte quindi? Sì 3, 2, 1, via Ok Ok Allora facciamo Io potrei fare, per fare qualcosa di diverso di sicuro Potrei fare magari una roba del genere Ah facciamo la base così in mattoni che mi piace un botto Ok Subito le strategie per entrambi E poi Eh perché per forza poi devo fare una cosa che sia un po' sopra il terreno Perché non è mai tutto Lo so Ah ovviamente Consolini Deciderete voi Chi fa la casa più bella Io Quindi votate nel sondaggio che ci sarà Fate da votando me E decidete che è vinta Ferre non puoi richiedere il voto ancora prima di iniziare Certo che posso No non puoi Non puoi Ignorata Allora qua non voglio lasciare Ecco non volevo lasciare nessuno Spaziettino Ok All'incirca questa è la grandezza che voglio Ok Perfetto Sì Però ovviamente qua bisognerà fare così Perché va sempre in questo modo Va sempre in questo modo purtroppo Passato un minuto Ne abbiamo altri sei Non so se mi basteranno i materiali che ho raccolto Spero di sì E anche io Spero di sì Mi sa che faccio le pareti però in legno La base di mattoni Le pareti in legno Ok E poi il tetto sempre di mattoni Opla Opla Ok Opla E qui c'è Un grasso giusto Ok E questa all'incirca È l'idea Poi Vediamo un pochettino Poi facciamo Che casino In casa si entra Mi sa Facciamo tipo da qua E facciamo così Ok No Questo non mi piace Poi Questo non possiamo farlo Facciamo Ok Ok così E poi Cavolo se è difficile È davvero difficile Questo via dalle scatole Ok Questo così E poi qua Dai fammelo fare qua agganciato però Ok E secondo me qua Facciamo così Perfetto E da qui si entra Ma davvero non me lo fai fare Ma che tristezza Poi pensavo Una zona del genere Fantasia proprio ve lo dico Qua si va davvero a caso È l'ingresso Quindi Opla Pam Ok E praticamente Si fa una roba del genere Così Così E così Ok Cavolo se è difficile Mi sto vista incasinando Ah qui facciamo così Io sono preoccupatissimo Ok io E qui voglio fare così Ok 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 Poi Ah è difficilissimo Voglio provare a fare delle stanze decenti Ma non mi sto uscendo niente di bello Qua Secondo me Noi potremmo fare La classica Ta 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 Ah qua facciamo così E facciamo E qui Mettere Così Una zona Che si entra qui Poi qui c'è una porta E qui me lo chiudi Qui c'è un'altra porticina Che difficile sta roba Lo so E poi Ok Cavolo ma fine mi fa fare davvero nulla Ok Non so come andrà a finire Non lo so ne chi Non ne ho idea Una roba del genere Beh Not bad Poi Ok E poi Mi servono altri mattoni Cavolo Qui lo voglio fare Posso mettere No Così Ok Qui poi voglio farci Finestra Allora Magari potrei fare Questo così Ho un'idea È difficilissima sta roba Lo so cara Lo so Cara Ok Ok Mentre però poi qua Torniamo Su questo Qui io potrei fare Una roba Tipo Perché non si può fare L'arredamento Così Ok Questo così Qua facciamo una bella finestra Qua lasciamolo così Ok Secondo piano Così Allora Eh no Tipo così Sì qua legno Ok Ah è giusto Sì Come sta andando Bene Ok Molto bene Ok A te Bene sì dai Cioè sono molto soddisfatto Come fare così Facendo una roba figa Ok Allora 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 Devo pensare Devo pensare Qui porta Ok E qui Perfetto Adesso Qua devo fare così Qua devo fare così Qua devo fare così Qua Devo Ah No 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 Calmi tutti Se facessi una roba del genere Che Difficile Non ne posso più Allora Poi qui voglio fare così Ah mi sto incasinando Allora così e così Perfetto 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 Qui finestra Qui finestra No Qui finestra Quanto abbiamo ancora? Eh Siamo a sei minuti Wow Quindi teoricamente è molto poco Ok Ma io ho quasi finito Guarda ti dirò eh Cioè sinceramente mi manca Mi manca il tetto Devo finire di fare il soffitto Ok Non so come fare Perché sarà difficilissimo Mondare in alto Già è quello che Un po' sto avendo problemi anche io su quello Allora Quindi a questo punto Avremmo detto Facciamo Tipo Ta 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 E tipo qui Se io metto Questo Ok Ma come lo faccio il tetto Steph Ok dovrebbe essere Tipo Ok Ce l'ho fatta Poi qua facciamo Lo faccio Ok Ma tu come hai fatto il tetto? Come sei riuscito a farlo? Eh Sta andato tutto su Ho fatto un casino Ma li hai fatti tutte a piramidine o cosa? Sì Tutto come di fai poi Oh cavolo Già Oh cavolo Già Ma che sta a fare ste robe? No mi è portita una piramide nel posto sbagliato Non è stato semplice cara Non è stato per niente semplice Allora modifica Comunque di qui si va qui Che c'è tutto il bel posto Eh E va bene Qui Adesso poi risulta così No ok Non sta andando bene Steph aiutami E che c'è? Io non so fare le modifiche delle piramidi Bene non faccio in tempo Mi si spacca Mi si spacca Eh mi dispiace Quello è un problemone Allora Porca miseria Come la faccio? Non sapevo avessi tutti questi problemi Abbastanza Così Ok Ok Questo va bene Questo va bene Ci sono ci sono Ma tu hai arredato in casa? No ovviamente Come arredi? No infatti neanche io Cioè non ci ho perso troppo tempo Perché Quello che è l'arredamento Purtroppo E quindi non ci ho perso Allora Steph Mi devi dare due minuti bonus Per il suo affitto Te lo giuro Allora Tutti zitti Ce la posso fare Ok Lo sto facendo Dove solo trovare le combinazioni giuste Quindi questo si gira di così Esatto Poi questo Questo deve stare di così Ok sto capendo Di così Perfetto Poi Maledetto te che mi ha fatto fare sta casa Guarda E quello poi come lo modifico però Oddio Oh cavolo Allora Andiamoci Potrei Fare una roba del genere Allora no Qui lo devo lasciare così E' uscita una schifezza Alla fine Non fa Non fa Non fa Non fa E' uscita Io ho quasi finito Come si è messo? Io ho finito Sto facendo dettagli Perché ti sto aspettando A sto punto Cerco di migliorarmela anche io La casa Mentre ti aspetto Vabbè Non è che sto facendo Devo Ti stai facendo il tetto Sì Però Più che altro Adesso sto distruggendo le cose Che ho messo in più Che non ci devono stare Qui devo riparare Che la mia casa Non deve essere rotta E poi volevo fare Un'ultimissima aggiuntina Posso? Piccola Tipo? Boh Piccolissima Ok Allora Però Mi rovina sempre tutto il gioco Vabbè Lo faccio solo la partita Volevo fare il recintino fuori Per renderla più carina Ma purtroppo È così Vabbè Vabbè Non fa Basta Basta Quindi è finito? Sì Volevo fare tipo Ah no Mi è venuto in mente Aspetta Dai Titto Lo faccio sospeso in aria Ti informo che volevamo Sette minuti E siamo a dieci Te l'ho detto Che più o meno Dovevano essere una decina Vabbè Qui non si vede Fatto? Sì Vieni Interrompo Vengo a vedere la casa tua Allora C'è già la porta aperta Guarda Quindi Questo è il suo recintino Finestrine Blah 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 Porta aperta Si entra da qui Ok Un po' di stanze Un po' di muri Un po' di finestre Ah l'hai deciso Sì Da qui si sale Cavolo c'è un pavimento rotto Molto scomodo salire Perché non ha fatto la scala a chiocciola Non si sa bene perché Perché mi piaceva così E poi si è dimenticata di fare anche un sottosofitto Che secondo me ci sarebbe stato Perché? Va bene Ti mi hai fatto fatta di fretta Non rompere Ok venga da me Faccio il terrazzo Non hai visto il terrazzo? Il terrazzo non l'ho visto Scusami un attimo Vieni a vedere il terrazzo Era la parte più bella Dov'è? Maledetto qua Ok 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 Faccio schifo a costruire Ciao Allora La mia vorrei farti vedere dall'alto Vieni qua Dove sono io? Sì ma hai fatto una magione Stessa quantità di tempo eh Eh vabbè Avevi belle idee chiare Guarda È bella la vedere Sì infatti Dai porti i catti sotto Ma fai schifo Cioè dovevamo fare una casetta Non una villa Steph È quello che si riesce a fare in tempo Ma io ho fatto una villa Vabbè Allora seguimi Lasciamo perdere A parte che devo coprire il soffitto E poi la viene a rivedere E qui c'è Una situazione balconcino Ok E qua porti catti Ho visto che tu hai criticato No vabbè ma questa è una parte dove non si vive eh È soltanto una cosa estetica da fuori Perché è una di quelle case architettoniche Però qua non li hai continuati porti catti No perché ci stavano male lì Si entra da qui Quindi questa qua è la vera entrata Ok Si entra così Open space Open space Come puoi vedere qua c'è un giardino Venga a vedere un po' che è bello Non è un giardino Sì sì vede Questo è un bellissimo giardino Ma ti entra l'acqua in casa Non hai neanche le porte E si sale Con una scala a chiocciola Qua abbiamo un bellissimo terrazzo Ok il terrazzo è carino E qua infine il soffitto Ma non hai fatto il secondo piano Cioè si sale solo per il terrazzo Esatto perché è un open space molto più grande del tuo Ecco perché poi sembrava così bello Non hai fatto niente dentro Cioè io per se devo fare le stanze Le scale Il soffitto Ho fatto il terrazzino Cioè tu hai una scala che porta un terrazzo Cioè da fuori è bellissima Non ti dico nulla Da fuori è davvero bella E mi è piaciuta l'idea Ma Stef Cioè se vuoi fare l'open space Spesso al pieno di sopra Mi devi fare i soppalchi come minimo E quello è un soppalchino No Stef È un terrazzo all'aperto E quando ti piove Cioè ti entra pure l'acqua a casa Ti entra l'acqua in casa Aspetta come la fai la scalacchioce La brutta Te lo spiego? No ho capito Eh no No devi riacchiappare Aspetta Esatto Vai Bella Allora qui aspetta No lì devi proprio toglierlo quel pavimento Ah non posso Aspetta Bella È qua ha capito Eh ma come ci arrivo? No tutto Fai entrare tipo da qua Ah dici Ma non si può entrare dal terrazzo Altrimenti cambi l'ordine di questo Aspetta Allora teoricamente si fa Non si può entrare dal Aspetta sono in mezzo Non si può entrare dal terrazzo Però è una cosa un po' brutta Allora Così e così Per fare dove vieni tu È brutto È tutto storto Vabbè era meglio come l'avevo fatto Schifetto Allora come l'avevo fatto Guarda non puoi finire anche tra il piano di sopra Vedi mi rovina le case Mi rovina le case No lasciala così È perché sono più difficile Vedi fare la parte di sopra Vabbè Comunque sfida finita Nel sondaggio è decidere chi ha vinto Quindi se date più importanza All'estetica da fuori O all'estetica interna Nessuno dice nulla per dare voti a se stesso In ogni caso Speriamo che la sfida vi sia piaciuta Io avete visto quanta cura ci ho messo nel tetto Secondo me è davvero un bellissimo tetto Per di più Ma lasciamo perdere Ma hai fatto solo il tetto E quella Aspetta io guarda Tappo qua Così è perfetta Qua sotto come sempre ci sono altri video Nella casa di Steph Ricordatevi che se ci andate a vivere Vi piove dentro casa Ignorate la signorina Su Fortnite raga non piove Quindi l'unico problema è se c'è la tempesta Ma se c'è la tempesta è già un altro problema Perché se prende la vita Iscrivetevi al canale Campanellino E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao